Ciao a tutti, se sei innamorata o innamorato non è vero amore, sicuramente non è vero amore, perché l'innamoramento è la forma più aberrante di attaccamento che esista e sicuramente non è vero amore. L'innamoramento è la possessività, è una forma di attaccamento, è desiderare in modo smodato, è una bramosia smodata di possesso, quindi fa leva su tutto ciò che è contrario all'amore. L'amore è il desiderare invece che l'altra persona possa essere felice. Quando c'è amore vero non c'è innamoramento, se c'è innamoramento non ci può essere amore vero, sono due cose contrarie. Quindi ogni volta che tu ti senti innamorata di qualcuno sicuramente non lo ami, sicuramente non sei coinvolta e se qualcuno è innamorato di te sicuramente non ti ama, cioè è coinvolto diciamo a livello di attaccamento. Tieni presente che però queste forme di attaccamento hanno anche una durata abbastanza breve, al massimo un ottavo degli anni della vita, quindi in cui ci si trova a 30 anni, sono 30 diviso 8, sono 8 per 3,24, 8 per 4,32, cioè 4 anni diciamo così, più o meno, e quindi 4 anni di cui 2 a salire e 2 a scendere, quindi alla fine proprio il pieno si verifica in due anni circa. Quindi dobbiamo tenere presente questo. L'innamoramento è una forma diciamo di attaccamento smodato, di bramosia smodata, che è nulla a che vedere con l'amore. Dobbiamo tenere presente questo. L'amore è una cosa completamente diversa, l'amore è completamente libero dall'attaccamento. L'amore è il desiderare che l'altra persona possa essere felice, desiderare che l'altra persona possa vivere una relazione con te basata sulla felicità, basata sul rispetto reciproco, anche su un impegno. Se parliamo di amore a livello sentimentale, non amore in generale, amore universale. Quindi questo è fondamentale. Noi dobbiamo imparare questo, se vogliamo ottenere dei risultati che possano essere interessanti per le persone. Quindi se sei innamorato, se sei innamorata, quello non è amore. Quindi smetti di credere che l'innamoramento sia amore, perché l'innamoramento è tutto il contrario dell'amore. Se sei innamorato non lo ami. Questa è l'equazione. Per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao!